Miffi, Miffi, corri e vai! Con i tuoi amici ti divertirai! Snaffi, Granti, Boris e anche Pop che è qui con te! Tutti insieme siete lì per giocare così! Miffi, sei una coniglietta! Miffi, dolce e un po' furbetta! Miffi, la nostra amichetta! Miffi, sei tu! È tempo di vacanze! Durante questo periodo la scuola rimane chiusa. Miffi, la sua mamma e il suo papà erano pronti a partire per le vacanze. Miffi guardò la mappa in modo da poter vedere dove sarebbero andati. Un anno erano andati al mare. Quest'anno volevano andare in montagna. Mamma Bunny disse, dobbiamo mettere in valigia indumenti caldi. Perché mamma? Domandò Miffi. Siamo in estate! Vedrai, Miffi. Forse rimarrai sorpresa. Papà Bunny controllò che fosse tutto a posto e sicuro per un viaggio in auto in montagna. A quel punto partirono. Prima salirono su delle bellissime colline. Poi attraversarono il bosco. E infine salirono su delle montagne. Miffi si accorse che più salivano più faceva freddo. Quando si fermarono per uscire a vedere il meraviglioso panorama, dovettero indossare abiti più pesanti. Salirono sempre più in alto. Miffi cominciò a notare che per terra c'era della neve. Che strano, disse Miffi, la neve in estate. Ora capisci, Miffi, più si sale in alto sulle montagne, più fa freddo. Sulle montagne molto alte c'è la neve tutto l'anno, disse mamma Bunny. Quando arrivarono proprio in cima alla montagna, c'era neve dappertutto. Possiamo giocare con la neve come in inverno, chiese Miffi. Certo, perché non dovremmo farlo, disse papà Bunny. Miffi e i suoi genitori fecero un pupazzo di neve. Poi si divertirono a giocare a palla di neve. Presto arrivò il momento di scendere giù dalle montagne. Mentre scendevano piano piano, cominciò di nuovo a fare caldo. Infine arrivarono sulle rive di un bellissimo lago. Qui è dove trascorreremo le nostre vacanze, disse mamma Bunny. Guarda Miffi, c'è qualcosa che ti sta aspettando. Un'altra sorpresa, gridò Miffi. Prima la neve e ora la barca. Che meravigliose vacanze. Mentre la sua mamma sistemava tutto il necessario per potersi fermare in quel posto, Miffi e suo papà andarono verso la barca. Ci salirono sopra e partirono per un bel giro in barca intorno al lago. Quando tornarono, Miffi vide che mamma Bunny aveva acceso il fuoco e aveva preparato una zuppa deliziosa. Queste sono davvero delle meravigliose vacanze.